buongiorno appassionati del crimine bentornati sul canale se non ci siamo mai visti io sono andrea e oggi voglio parlarvi del caso molto sospetto di gary williams un ragazzo di 31 anni che è stato ritrovato chiuso in un borsone non solo chiuso con la cerniera ma addirittura con un lucchetto la cui morte è stata considerata prima sospetta e poi accidentale perché è chiaro e ovvio che ognuno di noi potrebbe benissimo farsi del male e poi chiudersi con un lucchetto dentro un borsone immagino che tutti quindi avrete già capito che si tratta di una vicenda alquanto folle perciò vi invito se volete iscrivervi al canale a lasciare un like e noi iniziamo subito con la storia di oggi dunque garrett nasce in galles il 16 di settembre del 1978 i suoi genitori erano ellen e ian ed era il maggiore di tre fratelli fin da piccolissimo garrett era fissato con i computer ed era un vero e proprio genio della matematica proprio per questo motivo fin da piccolo appunto i suoi compagni di scuola lo esiliavano ma questo per lui non era affatto un problema questo perché lui preferiva di gran lunga stare nel laboratorio di informatica piuttosto che stare all'aperto a giocare con i suoi compagni all'età di 17 anni si era già laureato alla banger university mentre all'età di 18 anni stava conseguendo il dottorato all'università di manchester gli era stato poi subito proposto di andare a lavorare per l'intelligence la gchq che sarebbe come l'mi6 per intenderci e il suo lavoro era di analizzare delle comunicazioni e proteggere dati sensibili del governo anche se a dire il vero non possiamo sapere esattamente di che cosa si occupasse questo perché si tratta di informazioni appunto sensibili e informazioni riservate ad ogni modo era andato a lavorare per questa agenzia nel 2000 ma poi era stato trasferito appunto all'mi6 anche se il suo lavoro lì non gli piaceva affatto e stava appunto progettando di ritornare alle gchq dove si trovava molto meglio ma prima che potesse farlo è misteriosamente scomparso tutto ciò che sappiamo su garret in quel preciso momento della sua vita è che stava lavorando per criptare alcune informazioni sensibili di gruppi importanti e pericolosi come quelli russo cinesi e turchi il 15 di agosto del 2010 garret è stato visto per l'ultima volta da delle telecamere di sorveglianza di un bancomat lui era andato lì alle 14 e 30 ci era di nuovo ripassato davanti in seguito e quella appunto è stata l'ultima volta che chiunque o qualunque cosa abbia visto garret vivo il 23 di agosto quindi ben una settimana dopo la sorella di garret era davvero molto preoccupata perché non vedeva più suo fratello da otto giorni aveva contattato direttamente l'agenzia di intelligence per il quale per la quale lui lavorava e anche loro non l'avevano più visto neanche i suoi colleghi perciò avevano immediatamente contattato la polizia degli agenti erano andati quindi al suo appartamento all'ultimo piano appartamento che lui stava affittando in quel periodo e non riuscendo ad entrare perché avevano bussato più volte senza ricevere risposta avevano contattato l'agenzia immobiliare dalla quale appunto garret aveva affittato l'appartamento e avevano dato loro delle chiavi di riserva con le quali loro erano entrati all'interno dell'appartamento era tutto in ordine tranne un computer portatile delle sim card e il telefono di garret che erano buttati sopra un tavolino gli agenti avevano continuato per lustrare tutto l'appartamento erano arrivati alle camere da letto e poi al bagno dove all'interno della vasca avevano trovato un borsone enorme e rosso chiuso con la cerniera e anche con un lucchetto all'interno di questo borsone c'era il corpo di garret williams ed erano state quindi subito avviate le indagini che erano un pochino più complicate del solito questo perché garret faceva appunto un lavoro top secret detto questo avevano sigillato l'appartamento avevano messo delle guardie davanti 24 ore su 24 all'interno dell'appartamento erano state trovate tracce di circa 10 15 dna diversi ma all'interno del bagno e soprattutto sul borsone non era stata trovata traccia di alcun dna oltretutto sul corpo di garret non c'era alcuna ferita e non sembravano esserci neanche segni di lotta e quando dico che all'interno del bagno non c'erano segni di dna vuol dire che non c'erano neanche i segni del dna di garret il che è impossibile a meno che qualcuno non abbia ripulito tutto dopo la morte del ragazzo inoltre la porta del bagno era chiusa chiave dall'esterno quindi necessariamente qualcuno doveva essere all'interno del bagno e essere uscito e aver chiuso la porta gli esami tossicologici poi erano stati molto chiari non c'erano tracce né di droga né di alcol all'interno del corpo di garret di conseguenza la causa della morte del ragazzo è stata definita indeterminata anche perché il suo corpo era in uno stato di decomposizione molto avanzato perché appunto erano passati più di otto giorni ma c'è anche un'altra cosa da dire che siccome era passato così tanto tempo e il medico legale sosteneva fermamente che fosse morto nelle prime ore del 16 di agosto allora potevano essere anche non validi effettivamente gli esami tossicologici perché il corpo era talmente decomposto che forse potevano essere alterati gli esami tossicologici appunto e quindi c'era anche qualche magari 1 2 per cento di possibilità che effettivamente fosse stato drogato e ucciso in quel modo come vi dicevo all'inizio quindi la morte almeno per il momento era stata definita sospetta anche se era quasi impossibile non avviare le indagini ma proseguirle perché non c'era alcuna alcuna prova neanche alcun indizio che potesse dare una mano agli agenti a risolvere questo caso alcuni agenti poi avevano provato a simulare di entrare appunto all'interno di questo borsone di un borsone simile a quello in cui era entrato garret ma diciamo che era possibile ma era molto molto difficile in ogni caso era impossibile chiudersi con il lucchetto quando già gli agenti erano dentro il borsone quindi sostanzialmente credevano che l'avesse fatto qualcun altro al posto suo e che non fosse entrato di sua spontanea volontà e che si fosse poi successivamente chiuso all'interno del borsone inoltre c'è anche da dire che nel caso in cui garret avesse voluto suicidarsi probabilmente l'avrebbe fatto in un'altra maniera all'interno del suo appartamento poi erano stati trovati in camera da letto nell'armadio svariati vestiti da donna anche diciamo molto costosi il che ha fatto speculare tantissimo tutti quanti che sostenevano che forse nel privato garret amasse vestirsi da donna e gli piacessero quel genere di cose in fondo tutti sapevano che fosse appassionato di videogiochi e che amasse andare in bicicletta con suo padre passione che appunto condividevano ma nessuno aveva mai saputo del fatto che magari lui amasse appunto vestirsi da donna oltretutto interesse che non capisco assolutamente siccome un essere umano è morto in circostanze a dir poco sospette mentre invece tutti quanti sembravano quasi più interessati al fatto che lui si vestisse da donna piuttosto che capire il motivo o comunque capire come fosse morto ad ogni modo le indagini proseguivano molto più che a rilento questo perché gli agenti si mettevano in una serie di veicoli ciechi che non portavano a nulla in più l'intelligence cercava in ogni modo di ostacolare queste indagini avendo paura probabilmente che uscissero fuori alcune informazioni che in realtà dovevano rimanere riservate proprio per questi motivi alla fine la morte di Garrett è stata definita accidentale e nonostante la chiusura delle indagini la gente sembrava ancora parlare del fatto che Garrett volesse o amasse vestirsi da donna il che davvero mi sembra assurdo mi sembra impossibile ma è così qualche anonimo infatti aveva rilasciato anche un'intervista sostenendo che Garrett fosse gay e che gli piacesse appunto vestirsi da donna che fosse stato visto diverse volte in alcuni locali gay e che all'interno del suo appartamento fossero stati trovati dei video pornografici gay quindi si può dire che fosse stata davvero avviata una campagna diffamatoria contro questo ragazzo senza alcun motivo valido è ovvio che in qualche modo volessero macchiare la sua immagine perché molto spesso non è quello che dici che determina se quello che dice una cosa positiva o negativa ma è il come lo dici ed è chiaro che queste persone volessero dare una connotazione negativa a quello che stavano dicendo che poi dico io alla fine della fiera che cosa ti interessa perché tutt'al più io non credo che né io né altri ci dovessimo andare a infilare nel letto di questo ragazzo quindi alla fine che cosa ce ne frega a noi queste cose io non riesco proprio a capirle ad ogni modo proprio per questo motivo avevano iniziato a credere che garrett facesse degli esperimenti di bondage e che fosse morto proprio per questo motivo ma in questo caso come ve la spieghi l'assenza di dna cioè è una cosa impossibile e inoltre io si faccio un esperimento di bondage poi muoio ma resuscito un attimo per pulire tutto e poi mi rimetto dentro il borsone è una cosa davvero davvero senza senso e senza logica il fatto che della gente abbia voluto per forza anche solo pensare una cosa del genere ma è successo quindi ve lo riporto così com'è dunque alla fine le teorie su questo caso come avrete capito sono solo e solamente due la prima è che sia stato un incidente vabbè e la seconda è che sia morto praticando dell'auto erotismo il che a me sembra e lo ripeto assolutamente ridicolo perché a me sa tanto di omicidio premeditato e perfezionato nei minimi particolari e poi domanda delle domande secondo voi è possibile che l'intelligence non si sia accorta dell'assenza di un membro così fondamentale del loro team e che sia stata poi la sorella a dover chiamare l'intelligence per chiedere informazioni su suo fratello e per dire loro che il fratello non si vedeva da otto giorni a me sembra tutto incredibilmente sospetto credo che questo sia stato come vi ho già detto un omicidio premeditato e potrebbe anche essere che in qualche modo forse l'intelligence sia magari coinvolta in questo crimine ma questo è solo un mio pensiero una mia opinione il fatto che appunto non si siano accorti della presenza dell'assenza anzi di Garrett per otto giorni mi porta a pensare a questo ma è solo una mia speculazione d'altra parte tutti gli altri hanno speculato sul fatto che fosse omosessuale quindi non vedo perché io non possa speculare su questo fatto è un caso come avrete capito che mi ha fatto un po' alterare questo perché appunto io credo che la gente possa fare davvero quello che vuole nel privato e trovo assurdo nel 2024 perché ahimè succede ancora anche oggi che appunto le persone pensino ancora che sia importante con chi stai sotto le coperte facciamoci i cavoli nostri detto questo non ho ulteriori informazioni riguardo questo caso purtroppo ahimè qualora ce ne dovessero essere ve lo farò sicuramente sapere ma è un caso ormai chiuso dal 2010 quindi insomma penso che sia impossibile che verrà riaperto ad ogni modo se dovesse essere vi farò sapere perché mi tengo informata assolutamente su questo caso perché mi interessa particolarmente fatemi sapere voi se l'avete invece trovato interessante fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo questa morte assolutamente sospetta e noi come sempre ci vediamo al prossimo caso true crime grazie a tutti per essere rimasti con me fino alla fine ciao a tutti